Qua fatto, qua fatto, qua fatto. Allora, ci sono trollpick proposti, giusto? Ci sono i trollpick proposti. Allora, vogliamo riesumare... Nami... Nami non da me? Nami squirt... Oddio mio, ragazzi, siamo pazzi. Vieni a bagnarmi, codice bar, bagnami tutto, cazzo. Anzi, no, non codice bar, scusate, ragazzi. Allora, la gente confonde codice bar con gattokurame. Stiamo parlando di un'altra persona. Nami squirtame. Come mai hai deciso di fare lo streamer? Per svaggo o per interessi personali? Perché è un lavoro che mi posso gestire io. E preferisco un lavoro che mi posso gestire io. Platino a vita. Con tutti i picchi che ha proposto, l'unico che mi è piaciuto è Nico di Jungle, questo. E si va con Nico di Jungle. Dov'è la mia brioche? But now, what runes we are gonna play today, together? Bene. Oh, direi di fare così comunque le rune. Nico di Jungle, quindi mettiamo tempo lethal. Andiamo. Ok. Ho preso Luca. Luca è il nostro pet rosso. Missing, sì. Abbiamo pagato le tasse. Certo, Mazdan. Ma l'ho fatto ieri. Tu invece l'hai fatto? Voi, chat, siete stati bravi? Si impara. Sono stranzo. Vieni, vieni, fai anche tu adesso. Siamo scemi, molto bene. Atacco base e cambio forma. Anche questo blu è stato attaccato da tutti. Fidding finito, ora ci sono. Bravo Phoenix, ti sei fiddato bene. Sì, puoi gancare col Gromp, infatti lo faremo. Precisamente ora faremo un'altra cosa. Ecco qua. Nessuno si aspetta un gank così presto da un minion. Funziona sempre ragazzi, funziona sempre. Allora. Allora. Noi, no. Noi, no. Pericolo pericolo Allora Nico ha di jungle Di conseguenza Noi dobbiamo capire Potremmo fare tipo la guinso Con l'attack speed comunque by the way Lo vediamo Tanto prendiamo la D Poi ci pensiamo Mamma mia Erna mi Brava Vale anche per la no morti challenge eventualmente Purtroppo no Duncchiamo mid Qualcosa non va Mi scassa cosa gliel'avrà mai detto No è zero al Ma quanto è bello E vabbè Niente niente Adesso c'è un in-law Vabbè Niente è scappata perché sono al 6 Ma è vero Nooo Ma che merda ha fatto questa Boh Sì Sbagliato ogni cosa Vabbè Che fanno il drago eh Mio Sto unico qua Un casotto Non si capisce niente Io proprio sto facendo di tutto Un casino C'è Un po' Un po' Altri champion Oh Velvet bot Cazzo di blitzcrank E' bello sentire suoni dinami globali Comunque Ciao Cleo Grazie al pollo Grazie a tutti Non so se faccio in tempo Cosa succederà mai qui Però ho troppo poca vita Se arrivo qua mi ammazza Sarebbe stato molto divertente Dico Ma Non me la ricordavo così La giungla Oh no Vieni vieni che andiamo Non farei a spell Se non saranno quella Quella vera Andiamo qua Vieni qua Ho un cazzo di vita Curami Ecco niente La partita sta andando leggermente male Uh attenzione Uh attenzione il mare L'oceano Porca troia Londona Prendiamo la statica Ah Prendiamo Kraken Un po' di cibo Un po' Un po' Un po' Ah, è un cominte. Boh, che cosa ci farà? Un grompo qua. Non lo attaccherò. Ma come mai? E facciamo il drago. Hai dormito il posto? Un passato per un saluto e dovrò già scappare al lavoro. A presto. Ciao Ale. Sì, sì, ho lavorato. Eh, ho dormito. Lavorando. Cugino, un enorme cuoricino a te. Grazie alle tue macchine. Machine Gun Senna sono riuscito a climbare di elo. Grazie. Ottimo. Poveri grompo, non vogliono essere ignorati. Eh, lo so bene. Eh, che cosa si fa con la Lourdes lì? C'è provato, c'è provato. Bello. Bello. No, mi ha smite, ma come si fa? Non è giù, ma cos'è? Un bug assurdo. Ma come mi ha smiteato e mi ha ucciso tutto? Mi ha fatto 900 danni. Ma questo è un bug incredibile. Ma non è possibile. Riot Games, come programmi il tuo gioco di merda? Ma... No, vabbè, questo va clipato e mandato alla Riot, ragazzi. Non ha senso. No, no, è giusto. Ma quale è giusto? Ma che dite, ragazzi? Non può farmi 900 danni puri un nemico? Ma è... La morte è più ingiusta della mia vita. Ma com'è possibile? Avevo almeno 500 HP, non puoi one-shotarmi lo smite. Dai mo'. Vabbè, un culo. Non posso stare... Non posso trasformarmi in un mostro che mi smita. Ma che... Ma che... Ma che... Merda! Se mi trasformino in una piantina, mi tirano un attacco base e mi one-shotta? Non mi fa uno di danno. Cioè, ho niente, ho tutto, boh. Tutti temono un nipo, ora! Ho, 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 ho! Ma! Ma! Ti faccio splodere gli sciomai in faccia. Clip per Riot. Dopo lo segnaliamo. Magari... Togliamo la parte della clip dove è insulto la Riot. Cioè, ecco... Giusto quello. Così glielo mando. Ah, 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 ah. Guarda quanti gromp che ti arriva. Oh, Dio. Cazzo fa male questa, eh? Vimmi via. Porca troia! Ma come l'ho preso? Porco schifo! Infiniti? Cambiare corpo è come cambiare idea. Facile! Nico lo sa fare per gli altri... Secondo me è meglio far la guinzo. Farciamo questo. Proviamo... No, proviamo così. Di cattiveria. La maratona infinita, esatto. Hai visto, Federica? Uno streamer che resta in live sempre. Come faceva? Andiamo da Blinklerald. No, possono fare l'orreo. Mamma mia, ragazzi! E mo' e lo prendiamo noi. Fare, Eireld. Zeristart Drake. E un while. Potete, tipo, attaccarlo là dietro? CULONE! Facciamo pure questo adesso. Dopo la rivediamo insieme, ragazzi. Dopo la rivediamo insieme. A clip. Sono molto curioso. Sì, come stai, cugine? Hai visto, Dario? Noi ci sono arrivato prima perché sapevo che la gente arriva al live presto, ma trova il clone. Quindi adesso trovate me. Vado a letto prima, ho deciso, e così arrivo prima. Perché la notte tanto c'è meno gente rispetto alla mattina. Quanto vale esserci in live quando ci siete anche voi? Ma... Volete morire? Ma sto pet di merda, ma non attacca... Oh! Ma vuoi morire, cazzo! Cambiamento alla giungla è terrificante. Ancora non la sopporto. Sì, sì, ci può stare la statica. Questo campo non l'avevo mai fatto. Va bene. Però preferisco attaccare ad Aoe. Aoe. Le abilità scalano più con D o a P, con a P. Nessuna scala a D. Ed è per questo che la facciamo a D. E siamo stupidi. Ma dove va? Dov'è tippato quella? Era un recol potenziato. Ah. Ecco dove hanno... Dov'è tippato. Perché questo herald è stato un orribile utilizzo. Andiamo, vieni via. Aspetta, aspetta. Sono solo loro due? Ok. Mi dispiace, Blavet. Ho giunto la tua ora. Ma cazzo culo! Vabbè, almeno ho ucciso Blavet. Perché il problema è che lei era in vera forma. Quindi prima gliela toglie meglio è. Un allenato è stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. Doppia uccisione nemica. Ok. Hanno comprato armor i nemici. È tanto armor. E io rispondevo con... Vabbè. Questo oggetto qui. E allora prendiamo prima di... Di un anno. Non mi sto più trasformando nelle altre cose. Perché se Blavet mi può smitare... C'è un po' di rischio... Di essere one-shottati da uno smite che fa mille e due. Quindi non ha senso che io mi trasformi finché non risolvono il bug. E questa cosa mi è un po' annoia. Perché mi stavo divertendo molto a trollare la gente diventando le cose. Ma non lo posso più fare. Perché Riot non sa giocare al suo gioco. Mi stavo divertendo così tanto a trasformarmi nei mostri, a gankare, a fare il cretino, a trollarli. Ma cioè... Uno preme un tasto e mi annulla. Proprio delete. Vabbè. Hanno aggiunto il tasto Dell su LOL. Non ho esplode i build. Velvet con lo smite. La madonna. Velvet non può affrontare Niko nonostante sia full tank, 13 kill, attack speed, potenterrima. Non ce la può fare! Un nemico è stato ucciso. Oh! Prendi il red! Mamma mia, perché scappi? È male. Prendi il fondo. Lì c'è una torre. Ciao cugino, come stai? Ti stai divertendo con questa Niko? Sì! Ma non posso trasformarmi nelle cose se c'è Velvet viva, perché ho paura. Solo negli altri champion posso. Come la vecchia Niko, in sostanza. Che palle! Un alleato è stato ucciso. Anca clone. Ristrugura torre. Serie di uccisioni interrotte. Il mio smite non fa 900 danni pure, cazzo. E vabbè. Prendo questo per gli 1v1 con Velvet. Secondo me è più efficace. Velvet è veramente una minaccia. Ora potrei comprarmi qualcosa di tank. Per resistere a quella Velvet. Una Tormail. Fatto che lei è full attack speed e guadagna attack speed all'infinito. Ogni volta che mi colpisce subirà i danni di ritorno. Niko static. No, la static fa che cacche. La static è un item proprio che non serviva a niente. Cioè, dove la metti? Se devo prendere qualcosa che fa danno... Cioè, in questo momento, se dovessi prendere qualcosa, prenderei la Runan. che è utile nelle situazioni in cui ci sono più nemici, perché colpisci più nemici alla volta. Satic bullizzata, sì. Io la odio profondamente. Allora. Sono Nico a D. Amma che danni, cazzo. Andiamo a fare questo. Non ti avvicinavo. Non ti avvicinavo. Ti ascolta. Volevico è stato ucciso. Fincavi la Jumpfire. Tutti i giorni. Manca tu, palici. Mi facciamo più grande. Ehehehe. Eh, facciamo questo test. Federica, ti sei persa. Mi sa, il game di ieri dove ho giocato Kain lo scappante. Quello, veramente... È tutta una roba incredibilmente bellissima. Tra l'altro sarebbe anche da rigiocare, secondo me. Devo vedere adesso se... Questa qua può vincere 1v1. Oh, non può vincere più, perché abbiamo la Tormail. Un oggetto canterato tutto il mondo. Guarda questo Cusante. Guarda questo Cusante. Non può nulla. Venga, venga qui. Venga qui, Kaisa. Eh, ho la Tormail. Niente, non mi fa più danno. Tic, 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 tic. Cioè, un carry che ti one-shotta e man tanca anche. E non dovrebbe essere un carry, ma dovrebbe essere una P. Adesso prendereva dei formi. E sanno modo di vincere. Molto bene, ragazzi. Molto bene. Ho visto un bug per Nico, ma non so se fosse Rial. Praticamente Kindred ulta un campo. Non usa la Q su un mostro del campo e diventa microscopico. Dopodiché Nico si trasforma e diventa un mob microscopico. Comunque, ragazzi, stiamo salendo di brutto, cazzo. Quasi in silver stiamo arrivando. Eh, ma sei forte solo contro gli Iron. Allora, intanto, Nico di Jungle fatta. Molto bene, molto bene, ragazzi. Bravi. Ah, giusto. Voglio vedere un attimo sta cosa. Io questo bug su LOL lo devo reportare. Adesso scrivo un biglietto alla Riot e gli dico Cacca, culo, fica. Come fate a fare un gioco fatto così male? Non può esistere essere morti per questo motivo. Non esiste. Voglio vedere. Bello. Ma mi ha smaitato! Ma come si fa? Ma non è giù! Ma cos'è? Un bug assurdo! Ma come mi ha smaitato e mi ha ucciso tutto? Ma ha fatto 900 danni! Ma questo è un bug incredibile! Guardate la mia vita! 900! 600 HP, eh! 600 HP! Lei mi smaita? Puff! Finito! Morto! Come si fa? Cioè, questa cosa non esiste! Non è un bug? L'hanno fatta apposta la rito. Allora non si può giocare, Nico! Ragazzi! Allora, non è sì che è un bug! Come non è un bug questa cosa? Ragazzi, come fa a non essere un bug? Ma che dite? È la prima volta che mi succede! Come fate a dire che non è un bug? Ma come fanno? Non capisco! Ma siete pazzi! Ragazzi, una funzione... Cioè, Nico non può usare la sua passiva perché rischia di essere one-shotata! È apposta! Ma non è vero! Hanno messo sta cosa? Ma quando? Ma non è vero! Hai 600 HP! Esatto! Nessuna abilità può farti 900 danni puri o anche 1200 in un solo colpo! Non c'è counterplay a questa cosa qua! Ma cosa dite? Non c'è scritto nulla, ragazzi! Non c'è scritto nulla! Ciao, NJ! No, mi è appena successo un bug e la chat osa dire che è una feature! Non è vero! Ve lo siete inventato! Ragazzi, ma che cazzo dite? Guarda, NJ! Ti faccio vedere anche a te! Dimmi se è normale! Aspetta che tolgo la musica e così aumento un attimo il poso! Non è... Non è... Ragazzi, questa cosa non esiste! Non esiste! Bello! Guardate! Non mi ha smaitato! Cioè, mi ha smaitato e mi ha fatto i danni come se io fossi un mostro! Io ho 600 di vita e mi ha fatto 900 danni puri! Non mi ha smaitato! Ma come si fa? Non è giù! Sì! 900! E dicono che non è un bug! Eh, dovevo tornare in forma, Nico, se ti uccidono mentre sei un mostro! Fa troppo ridere! Sì, si fa ridere perché letteralmente ti ha smaitato! E sì che è un bug! E no, loro dicono di no! E mi fa nervosire! Perché è un bug questo? Non esiste questa cosa qua! Ragazzi, Nico, quando muore in forma... Adesso vi faccio leggere cosa fa! Adesso leggiamo insieme la passiva di Nico! Mi ha fatto anche l'animaletto? No, non ha fatto in tempo l'animaletto a farmi danno perché mi ha one-shotato! Cioè, pensassi avessi avuto lo smaito da 1.200! Cioè, Nico, quanta vita ha a livello 18? Vi proviamo un po' a vedere! Nico, non c'è più che non build HP! Ha 2.300 di vita! Cioè, a livello 18 con lo smaito mi toglie a metà HP! Fine! Passiva di Nico! Nico può camuffarsi e apparire come altra unità sulla mappa. Può camuffarsi in qualunque momento per apparire come un campione alleato, oppure Nico può stare vicino all'unità alleata o neutrale, accumularne il scioma e assumere le sembianze. Il camuffamento cessa quando subisci effetti di controllo immobilizzante, lanciabilità, danneggi una torre nemica con l'aspetto di un non-campione, o subisci danni pari alla salute dell'unità di cui ha preso le sembianze. Ok? Cosa significa? Che se tu sei camuffato e muore il mostro in cui sei camuffato perché la sua vita arriva, che ne so, tu sei un... hai 2.000 di vita. Il mostro che sei diventato ne ha 1.000, ti tolgono 1.000, tu ritorni Nico con 1.000, ok? Ma, ovviamente, se uno toglie 900 danni puri al mostro, ok, ma ai campioni lo smite non fa tutto quel danno. Ai campioni lo smite fa molto meno. Andiamo a vedere quanto fa lo smite, adesso lo prendiamo un attimo che non ce l'ho. Lo smite, ci sei quanti danni fa? Non è un bug. Sì, certo, però lo smite quanti danni fa ai campioni? Non ho 900, giusto? Su questo siamo tutti d'accordo. Allora, prendiamo un attimo un pet. Si può caricare il pet sulla giungla? Non si può, non c'è un tasto, bisogna farlo a mano, che merda. Leggiamolo, 20 il... ecco, a 20, stack, è proprio scritto qui sopra, proprio qui sopra. Il tuo compagno ha potenza e punizione che infligge 900 danni e può essere lanciata sui campioni per infliggere 20 danni puri. 20 danni puri, non 900. È un po' di differenza. Se io mi trasformo in un mostro, alla vita del mostro fa 900, a me dovrebbe fare 20. Non che, tipo, mi fa 900 anche a me solo perché sono un mostro. Questo è un bug, ragazzi, fine. Va segnalato la riot. È inutile che dite no, è così. Non chiedere parere allora se non accetti le altre opinioni. No, è perché io sto cercando di spiegarvi perché è sbagliato. Cioè, è proprio logica, ragazzi. Non è che non accetto le altre opinioni. Sono sbagliate, come fai ad accettarle? Ragazzi, secondo me, guarda, secondo me su League of Legends la matematica funziona così. Guarda, secondo me 2 più 2 fa 5. Però non mi chiedere perché. Secondo me è così, cioè, è la mia opinione. Oh, se non l'accetti, cazzo. Segnalo un errore. È come lamentarsi del dislivello. È così e basta. Ma il dislivello è una cosa. Una cosa che non dovrebbe esserci e un'altra. Cioè, il dislivello lo sappiamo tutti che è così. Puoi dirci che tipo di bug hai visto? Come si dice? Campioni, boh, riassumi il bug. Oh, vorrei fare una prova, però. Vorrei fare una prova. Qualcuno che viene in custom? Siamo con l'aggolico. Che ti piglio? Allora, prendi quello che vuoi. Basta che prendi lo smite e arriva a farne 20. Secondo me può essere stato il form di Velvet. Adesso lo scopriamo subito, ragazzi. Perché adesso abbiamo preso un campione diverso da prima. Prima era Velvet che mi ha smitato. Vediamo un po' com'è. In teoria basta che anche lo smite è iniziale. Se ti pigli tutti e 600 i danni non va bene. Giusto, giusto. Proviamo anche con lo smite iniziale. Io ho 600 di vita, ok? Anzi, facciamo così. Lago, vieni dal blu. Mi prendo un colpo di torre e poi mi faccio cittare dal blu. Trasformato in mostro, Nico riceve il danno pieno dello smite. Allora, perché ovviamente lui non può smitarmi, visto che sono un champion. Ma se mi trasformo in un mostro con meno di 600 di vita, vediamo se mi shotta. Smita? Non ti fa smitare, giusto? Non può. Vedete? Perché è un cazzo di bug! Allora, vai a farmare. Farma finché non arrivi a 20. Abbiamo fatto la prova. Se io sono un mostro, posso essere smitato in qualunque caso, giusto? Perché lo smite funziona sui mostri. Ma dato che io non sono un mostro e sono un campione, giustamente non può smitarmi anche se sono trasformato nel mostro. Giusto? Di conseguenza, perché quello da 900, se io sono un mostro, vale come se fossi mostro? Ma se quello da 600, se sono mostro, non può nemmeno usarlo? Non ha senso, capisci? Per questo dico che questa è la prova. Adesso invece facciamo quello da 900. Però per questo è un bug, esatto. Cioè, quello da 600 non può nemmeno usarlo su di me. Quello da 900 invece viene trattato come mostro. Allora, anche quello da 600 dovrebbe trattarlo come mostro. Cioè, se io mi trasformo in un mostro, dovrebbe trattarlo come se io fossi tale. E invece non può nemmeno usarlo su di me. Per questo dico, è proprio questo è il bug. Cioè, se fosse voluto che uno può usare lo smite su un'ico trasformata, allora anche il primo smite si potrebbe usare. E invece non si può. Quindi è solo sbagliato il codice di programmazione. Perché il gioco pensa, è un campione ma è un mostro. Sul campione non lo può usare, quindi non lo usa. Se invece si può usare su un campionale che è un mostro, allora funziona e funziona come mostro. Lo so, ma non ha senso. Dovrebbe funzionare come un campione. Ma quanto stai, laggo? Anche la Q di Nuno fa 1.200 a Niko trasformata. Ecco, questo secondo me è anche un altro bug. Non ha senso, ragazzi, non ha senso, dai mo'. Cioè, allora, ditemi una cosa. Perché Riot ha dato la possibilità a Niko di trasformarsi nei mostri? Niko, cioè, Riot ha dato la possibilità a Niko di trasformarsi in qualunque cosa. Per nerfarla? O per aumentare, non so, la sua giocabilità? Cioè, se tu non puoi nemmeno trasformarti in un mostro che vieni one-shotato, nel momento in cui ti trasformi come tale, cioè, tu non hai il rischio che se sei un minion, ok? Cioè, se io sono contro Niko mid, gioco con lo smite contro di lei. La smito, se si trasforma in un minion, capisco quale è quello giusto, ho vinto. Che senso ha, cioè? Abbiamo contro Niko, prendiamo 5 smite. Io, dopo che sono morto in quel modo nel game di prima, non mi sono più trasformato in un campione. Cioè, in un mostro, per tutto il game. Perché, ovviamente, avevo paura che lei potesse one-shotarmi di nuovo, ragazzi. Cioè, non è possibile che uno fa così. Tac! Oh, il nemico è morto. Oh, oh, oh. Cioè, hai capito? Quando il jungle del nemico smite il carretto, ma il carretto era Niko e guadagni 300 gold. Fatto sono a 20, va benissimo. Allora, facciamo così. Mi trasformo in una roba e ci vediamo davanti al drago. Allora. Eccomi qua. Vai. Ecco qua. Che bello, ragazzi. Che bel gioco. Che gioco di merda, ragazzi. Quindi funziona così, eh? Molto bene, molto bene. 600 a 900, sì. A 1200, probabilmente anche a 1200. Allora è proprio evoluto. No, non è evoluto, ragazzi. Stiamo dimostrando che questa cosa è una stronzata. Cioè, ve lo stiamo facendo vedere. Che è una puttanata. Ma come si fa a pensare che sia evoluto se funziona a 900 e non a 600, raga? E punto, boh. È evoluto. Però a 600 non si può. Allora perché... Come mai? È qualcosa che non va, ragazzi. Ve l'abbiamo appena dimostrato. Ma se mi trasformo in una piantina, che fa? Mi tira un attacco base e mi one shot? Perché la piantina ha uno di vita ed è il 100% della sua vita, ragazzi. Non ho capito. Non capisco. Cioè, boh, magari è quello. Ciao, sono un Grump felice. Il Grump ha 2000 di vita, ma io muoio. Ecco qua. Che bello! Che gioco ho fatto bene, ragazzi. Io lo segnalerei, eh. Ragazzi, da quando hanno fatto questo rework di Nico è la prima volta che mi capita sta cosa. Secondo me è un bug delle ultime patch che ho sistemato. E basta. Cioè, in sostanza questo. Lo smite su Nico trasformata deve fare 900 alla vita del mostro e 90, che è il 10% se non erro, non mi ricordo quando ho fatto lo smite, a Nico stessa. Quindi, magari la forma vostra muore. Nico torna visibile come Nico, però ha subito i danni come se fosse un campione qualunque. Questa è la funzionalità corretta. Non inventiamoci puttanate per tutto il resto. Grazie. È così. Fine. Altrimenti si contraddice la passiva. Esatto. Cioè, ditemi se questa funzionalità, questa funzionalità che vi ho appena detto, cioè quella corretta, è più corretta quella che dite voi. Cioè, ah, se è un Minion prende 900, allora prende 900 anche lei. No. Cioè, come fa a essere più corretto quello di quello che vi ho appena detto? Cioè, è impossibile. Logicamente. E vabbè. Lo smite è il summoner spell più forte del gioco. C'è lei ogni 15 secondi e fa 1200 danni puri. Ma cosa serve l'ignite? Eh, se no, cioè, non ha senso, capite ragazzi? C'è un motivo per cui lo smite sui campioni non può fare 900 danni puri. Lo potete usare comunque, ma ne fa molti meno, perché sarebbe troppo forte, se no, capite? Vediamo. Cos'è sta faccia? Vabbè. Questo è quanto. Allora, secondo me avrebbe senso prendere il danno puro dello smite se trasformata in mob, perché così rende ancora più interessante la passiva e non necessariamente OP, però non così. Cioè, ragazzi, non è che la passiva è eccessivamente OP quella di Nico. Ah, mi posso trasformare in tutto? No, serve a trollare. Non è così forte. Molte volte non ci riuscite nemmeno, anzi ci crepate perché provate a fare il troll. La passiva di Nico non è assolutamente OP. Ma infatti, ma come fa? Cioè, sono passive che sono molto più OP di quella di Nico. Cioè, già non è così forte la passiva. Mi trasformo e basta negli altri. Non ho nessun effetto, non ho nessun tipo di danno in più. Devo solo provare a fregare gli altri. Fine. Se le diamo anche il fatto che può essere letteralmente one-shotata come una merda, solo perché è super rischiosa, non ha senso. È una passiva quasi inutile, però è divertente, esatto. Ho visto Penta trasformata da Bulbo ed era un bug. Non può far danno da Bulbo, no? La gente si vede arrivare a Wave da 7-8000 e non si fanno domande, dai. Esatto. Basta avere un minimo di accortezza. Cioè, se vedete, per esempio, in competitivo e nello alto, non è che la gente ci casca così, no? È divertente per trollare, ma non è una passiva che è OP. Cioè, già fa schifo, non è così forte. Hanno fatto questo cambiamento per renderla un po' più interessante di Nico, per renderla più divertente e poi non puoi trasformarti in nulla se c'è il jungler nemico vicino perché ti one-shotta. Che cosa vuol dire? Meno male che non lo sanno tutti i jungler. Io adesso, se dovessi essere jungler, c'ho contro Nico che si trasforma in qualcosa finché non risolvono il bug, io la smito e la one-shotto. Se me ne ho conflitto il fatto che vieni considerata come un monster, ma quando prendi danno lo prendi sulla tua vita e quindi lo smite di considerare un mob, ma la vita scende la tua. Esatto, è quello che stiamo dicendo là. Però vabbè, mi avete detto che non era un bug. Allora.